Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 24 giugno, benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme. Anche questa mattina abbiamo preparato una scaletta particolarmente ricca con i nostri ospiti, amici di Mattino Insieme, vi faremo un po' capire, cercheremo di capire che estate sarà e vi forniremo anche alcuni consigli proprio per l'estate. Come tutti giovedì mattina però cominciamo il là, ce lo dà Vita Trentina, il settimanale di Ocesano. E ospite è qui con me Diego Andreatta che è il direttore di Vita Trentina. Buongiorno Diego. Buongiorno Marco, buongiorno a chi ci ascolta da casa. E tra l'altro dobbiamo ricordare che questo è l'ultimo appuntamento di questa stagione con te Diego perché la prossima settimana tu non ci sarai, ci sarà Augusto Goio se non sbaglio, vero? Certo, sì, è il mio turno di ferie e quindi colgo l'occasione anche per salutare chi ci ascolta e per augurare un'estate serena, magari più serena di quella dello scorso anno. Lo speriamo tutti veramente. Andiamo però alla prima pagina e all'apertura di Vita Trentina di questa mattina. Lo sappiamo che è San Vigilio che si avvicina, è sabato il giorno di San Vigilio e l'apertura è proprio affidati a Vigilio e c'è un'intervista al Vescovo, alla guida pastorale proprio della Diocesi Trentina. Che cosa dice il Vescovo? Il Vescovo guarda alla solennità del patrono, qui lo vediamo in questa splendida foto di Gianni Zotta inginocchiato lo scorso anno davanti all'urna con le reliquie nel Duomo di Trento. Guarda la festività che rappresenta ormai da qualche anno anche quello che Sant'Ambrogio è per la Chiesa milanese, un momento di verifica, di rilancio che avviene soprattutto attraverso il testo, la lettera alla comunità, che sarà diffuso sabato. Non ne svegliamo i contenuti, il titolo è Occhi, con evidente riferimento a quanto abbiamo vissuto nella reciprocità di sguardi con il volto coperto dalla mascherina in questi mesi di pandemia. L'ispirazione è quella che Don Lauro ha maturato anche nel periodo di convalescenza, quindi una riflessione sulle questioni del morire, del vivere, ma anche sulla necessità di valorizzare al meglio le nostre giovani generazioni che più di altre sono forse state dimenticate anche in questi mesi difficili. Questi sono due spunti, ma la lettera ne contiene molti altri e si pone come sempre come un tentativo di entrare in dialogo non solo con i fedeli trentini, ma con tutti quanti desiderano leggere questo testo che è molto discorsivo e molto stimolante. Sul piano invece pastorale parliamo col Vescovo di Sinodo, questa parola appunto che fa riferimento soprattutto alla grande assemblea dei Vescovi che si tiene periodicamente. Il prossimo appuntamento è nel 23, però il Papa al Vescovo di Italiani ha chiesto che un cammino sinodale non riguardi soltanto i Vescovi, ma coinvolga anche le dal basso, le diocese, le comunità parrocchiali. Il Vescovo Lauro ci spiega i passaggi, per cui in Trentino e in autunno avremo il rinnovo nelle parrocchie dei consigli pastorali, poi ci sarà una nuova articolazione per zone e proprio all'interno di queste zone ci saranno questi momenti di ascolto sinodale. Tu Diego dicevi che il Vescovo si rivolge anche e pensa alle nuove generazioni. Qual è il rapporto proprio delle nuove generazioni, dei giovani insomma con la Chiesa, con la Chiesa Trentina? Ma in generale possiamo dire, se stiamo a guardare i numeri, che la percentuale di quanti scelgono di impegnarsi dentro un cammino cristiano purtroppo va calando, cioè assistiamo ad un certo esodo dopo i sacramenti dell'iniziazione cristiana che non a caso sono sottoposti adesso anche a un ripensamento rispetto ad un percorso che dovrebbe essere catecumenale, cioè di riscoperta del valore del proprio battesimo. In una ricerca recente di cui abbiamo parlato domenica a Campo Lomaso e di cui parliamo su Vita Trentina, sui giovani giudicarieri risulta ad esempio che soltanto il 6% è impegnato in una realtà ecclesiale di base. Ecco, nonostante questo, come osserva anche il Vescovo, l'impressione è che quando tu sai incrociare l'inquietudine dei giovani, anche un certo malessere che non è un malessere adolescenziale, generazionale, ma che è anche culturale, quando lo sai incrociare, gli sai dare ascolto, i giovani sanno aprirsi e di fronte a proposte esigenti sanno anche rispondere con molta generosità e anche con molto impegno. E questo impegno poi diventa per molti anche un percorso, tra virgolette, vocazionale, cioè di scoperta dell'importanza, insomma, di una vita donata anche per gli altri. Penso a questo punto il successo, tra virgolette, dell'esperienza anche del servizio civile in termini più laici. Ecco, quindi è un grande potenziale che noi adulti sicuramente non sappiamo valorizzare. Una costante nel Magistero di Don Lauro in questi cinque anni è stata soprattutto l'attenzione ai giovani. Dopo i passi di Vangelo, che è un itinerario mensile in cui lui si incontra con loro, abbiamo avuto in occasione della pandemia i passi di prossimità, cioè delle offerte di servizio. Però ecco, è interessante, su questo noto anche un parallelismo con la sensibilità civile, ad esempio sempre nelle giudicarie, ma anche in altre zone del Trentino, a Dro, a Drena, partirà quest'estate un percorso che si intitola Io ci sto a fare fatica, che propone per dieci giorni ai giovani di fare un'attività di volontariato, ma impegnativo, esigente, organizzato, per sfruttare al meglio questo periodo che poi spesso è, tante volte insomma, è solo di svago, ma anche di non sapere cosa fare. Invece è una proposta che abbina il fare comunità con il fare servizio alla prossima comunità. Magari ti consiglierei di parlarne anche in questo tuo contenitore, perché mi sembra una di quelle iniziative che porta con sé, insomma, il germe di un'attenzione diversa alla realtà giovanile. Sicuramente, Diego, accolgo questo invito e ne parleremo, magari non qui a mattino insieme, perché come abbiamo già raccontato i telespettatori, a luglio e ad agosto la trasmissione non andrà in onda, ma ne parleremo nei nostri Tg e poi quando riprenderemo a settembre, magari potremo avere ospite, magari anche qualcuno che ha partecipato a questo progetto. Tornando alla prima pagina di Vita Trentina, voi vi occupate della nuova struttura del Centro Trentino di Solidarietà. Sì, si chiama La Sosta, è una proposta che questa realtà benemerita di impegno per la lotta alle tossicodipendenze, fondata da Don Antonio Busacca, che non a caso è citato all'ingresso di questa nuova struttura, rivolge a un piccolo gruppo quasi familiare di persone che appunto stanno facendo un percorso di uscita definitiva dalla dipendenza. Ecco, una sosta è proprio la denominazione che dice un po' l'impegno del CTS in questa direzione. Parlate poi di piste ciclabili, una rete ciclabile, quella trentina che fa invidia a tutta Italia, lo sottolineate anche sia in prima pagina che nelle pagine interne, e voi parlate di questo con uno dei padri delle ciclabili, Sergio De Romedis. Sì, la notizia viene da questo riconoscimento nazionale che la nostra rete di ciclabili ha ottenuto, è un tema al quale abbiamo dedicato anche una copertina qualche giorno fa, rilanciando l'ipotesi della ciclabile tra Trento e Cadina attraverso il bus de vela. La riprendiamo in questa pagina, per noi cicloturismo, o meglio viabilità insomma lenta a due ruote, significa anche rivoluzione ecologica ed è per questo che insomma cerchiamo di dare una mano a quanti lavorano in questa direzione. Parliamo anche di politica, perché Gianni Bonvicini riflette questa mattina proprio dalle colonne, proprio dalle pagine di Vita Trentina, della cosiddetta staffetta alla quale dovremo assistere proprio nella giornata di domani. Sì, fa bene a usare il condizionale perché bisognerà capire poi se negli equilibri d'aula si arriverà proprio domani al passaggio di testimone tra Compaccere e Fugatti. Abbiamo chiesto però al nostro esperto analista Gianni Bonvicini di dirci cosa intravedere in questo momento, che non è una prassi, un qualcosa di formale, ma è un'occasione per rivedere insomma ancora una volta il valore di una cornice regionale in chiave anche degasperiana. E Bonvicini ci offre molti spunti anche a partire dalla difficoltà di dialogo che le due province autonome hanno avuto nella fase della pandemia. Nella settimana scorsa sono stati annunciati proprio dal Vescovo alcuni, molti per la verità, avvicendamenti nelle parrocchie trentine. Ne analizzate alcuni, tra l'altro parlate di Don Daniel e Don Max di nuovo insieme in Paganella e poi Don Giulio Viviani che andrà invece a mezzo corona. Sì, abbiamo scelto questi due approfondimenti. Il primo perché ci sembrava ribadire un po' la direzione di una fraternità sacerdotale che ha bisogno di gesti anche concreti, la vicinanza di due parroci giovani che poi hanno studiato insieme, sono stati ordinati insieme, è evidentemente anche un tentativo di fronteggiare la solitudine del prete che talvolta può affazzarsi. Io penso conoscendoli anche da vicino e stimandoli che potranno fare un ottimo lavoro di insieme. E poi Don Giulio che lascia molti incarichi, è uno dei nostri preti più conosciuti. Ci soffermiamo in particolare anche su quello di cerimoniere, che lo ha visto per quasi 70 celebrazioni in quest'anno di pandemia, proprio a fianco al Vescovo, anche di fronte a scelte importanti. È un servizio che può apparire appariscente, in verità è molto umile e per i seminaristi rappresenta un po' anche una scuola di una liturgia aggiornata al passo coi tempi. Se ne occuperà ora in poi Don Vincenzo Lupoli, che è educatore in seminario e che è anche responsabile della nuova casa vocazionale. Don Giulio, lo ricordo, va a mezzo corona e si avvicenda con Don Agostino Valentini, suo amico, nostro ex direttore, che consentimi di salutare con molto affetto anche questa mattina, augurargli non tanto una pensione, perché conoscendolo non sarà così, ma un servizio in modalità nuove nella sua varrendena. Anch'io veramente lo saluto con grande, grande affetto, perché quando ho cominciato a fare questo mestiere era proprio lui alla guida, ricordo, di Vita Trentina e quindi ho veramente avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo. Lo saluto caramente. Dalle valli, dalle valli, Diego, che cosa ci segnali questa mattina? Abbiamo una bella notizia che viene dal Basso Sarca, il Convento delle Grazie, che cambia pelle, si potrebbe dire, mantiene la sua, naturalmente, fisionomia, la sua identità, ma si riconverte, d'intesa naturalmente con i frati francescani, ad un servizio sul territorio, un servizio anche sociale di grande importanza. Si scoprirà tutto leggendo questo articolo che apre le nostre pagine delle valli. Questa settimana sono in numero un po' più ridotto, perché dobbiamo lasciare spazio a questi miei fratelli, il nostro inserto trimestrale. E proprio a quello volevo arrivare. Che cosa si parla? Qual è l'argomento che viene trattato tra i tanti all'interno proprio di questi miei fratelli? Ma direi che i filoni sono due. Il primo è quello della cura. Abbiamo raccolto due testimonianze molto mature, molto toccanti di chi è passato attraverso la rianimazione, in particolare un religioso deoniano di Villazzano, padre Silvano Volpato. E l'altro tema è quello dei pellegrinaggi oggi, e ce ne parla il delegato vesquile Don Cristiano Bettega. In fondo qual è la nuova Gerusalemme è anche il volto dell'altro, saper fare un cammino anche verso l'altro, nell'attesa poi di riprendere anche i pellegrinaggi a piedi. Prima di salutarti, Diego, che tipo di estate ti aspetti? Ma io appunto, come dicevo prima, mi aspetto un'estate più serena, magari meno svagata, di quella dell'anno scorso, in cui una certa euforia ci ha anche dato l'illusione di aver chiuso definitivamente una pagina, che invece poi si è crudamente riaperta. Ecco, credo che ci siamo stati scottati, insomma, da quanto poi è accaduto, da questo tributo di vittime, insomma, al Covid, che non possiamo dimenticare, che non possiamo archiviare o rimuovere. E per questo credo che potrebbe essere un'estate all'insegna della responsabilità, che non significa venire meno, magari anche al recupero di quelle relazioni più autentiche, dentro la famiglia, con gli amici, che tutti ci auguriamo. Grazie, grazie infinite a Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina, che ci ha accompagnato lungo questi mesi, sia i mesi autunnali, poi invernali, poi primaverili, e ci ha aiutato veramente a leggere, a interpretare le tante notizie, no, che vi abbiamo presentato tutti i giovedì mattina. Grazie infinite per questo impegno. È stato un piacere, grazie a voi dell'ospitalità. E ci rivediamo presto, buona estate Diego. Grazie.